potrebbe pensare alle urne? Guardi, in un momento del genere infilarsi in ragionamenti di questo tipo può essere una manifestazione di scarsa responsabilità, nel senso cioè che noi stiamo vivendo oggi una giornata che, come veniva ricordato, vede crollare la borsa e schizzare gli spread. Quindi rispetto a questo occorre una riflessione e delle decisioni che non possono essere prese unilateralmente da una sola forza politica ma da tutte le forze politiche e dal quadro istituzionale. Quindi io propenderei per un momento di cautela, di riflessione e di senso di responsabilità rispetto a un quadro economico e finanziario internazionale e interno certamente serissimo. Grazie a proposito di, a prescindere dalla data di elettorio,